Resta per ora a metà l'accordo tra Brexiteers annunciato nelle scorse ore da Nigel Farage a beneficio di Boris Johnson in vista delle elezioni britanniche del 12 dicembre, con la decisione di non presentare candidati del suo Brexit Party in nessuno dei 317 collegi occupati da deputati uscenti del Partito Conservatore e del Premier, un'indicazione che nelle ultime ora è stata confermata nuovamente da Farage, il quale tuttavia si rifiuta di estendere la strategia di desistenza unilaterale anche per alcuni seggi in bilico conquistati nel 2017 dai laburisti, come chiedono invece di fare il Vertice Tory e vari giornali di destra Daily Mail in primis. Al contrario il leader euroscettico sollecita che in alcune circoscrizioni tradizionalmente pro-labur il favore sia reso al Brexit Party in modo da offrire una chance di elezione almeno ad un pugno dei suoi esponenti. Ci mancano solo nove seggi in più, ha tweetato intanto Johnson, per conquistare la maggioranza ed uscire dall'Unione entro la fine di gennaio, mentre i laburisti denunciano l'accordo de facto tra Brexiteer come un'alleanza cementata all'ombra dei voleri di Trump per imporre una Brexit improntata alla deregulation più selvaggia.